Sì, risponde l'assessore Lolli a questa, vero? Sì, io credo che meriti la lettura a questa interpellanza. Parliamo di cittadini che da 45 anni stanno aspettando il pagamento di un esproprio, cittadini che hanno visto anche tanti anni fa portare via dalle loro case o dalle case dei vicini con forza altri cittadini proprietari di quelle aree di cui godiamo tutti quanti noi. Parlo dell'asse attrezzato di Pescara, aree di cui tutta la collettività abruzzese gode, ma ci sono dei proprietari che da 45 anni aspettano il pagamento dovuto e purtroppo tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno lasciato correre con il disastro, possiamo dire, commesso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara. Ebbene, iniziamo gli anni 70, quando il prefetto della provincia di Chieti, con decreto di esproprio, ordinò ai proprietari di mettere a disposizione i propri terreni per la costruzione dell'arteria stradale in seguito denominata e assattrezzato Chieti-Pescara, fissando gli indennizi e disponendo il deposito degli stessi presso la Cassa Depositi e Prestici da realizzarsi a cura dell'ente beneficiario espropriante che all'epoca appunto il Consorzio stesso. Il valore delle aree stabilito dall'ufficio tecnico erariale, calcolato in circa 456 lire su un metro quadro, risultò immediatamente troppo basso in netto contrasto con le valutazioni effettuate dal medesimo ufficio nello stesso anno e per le medesime particelle per altri esporopi, quelli cioè in favore dell'allora Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. Tale palese incongruenza ha spinto vari proprietari a ricorrere l'autorità giudiziaria e nel dicembre dello stesso anno, parliamo del 1970, hanno proposto un'opposizione all'esproprio per l'inadeguatezza delle indennità offerte. Nell'emmore del giudizio il Consorzio Asi-Valpescara, nella sua attività istituzionale, il 5 settembre 1983 ha consegnato provvisoriamente un primo atto di superstrada all'ANAS. Nulla di anormale, se non per il fatto che l'azienda delle strade imponeva al già mal ridotto Consorzio delle clause mediane delle quali si scaricavano di tutti gli oneri pendenti, lasciandoli al cedente e quindi al Consorzio stesso. Intanto la sentenza di Primo Garado veniva pronunciata al Tribunale di Chieti nel 1988, dopo ben 18 anni dall'inizio della causa civile. Inoltre, in quella sede, il giudice rilevò il mancato deposito presso la Cassa Depositi e Presti delle indennità provvisorie, come prescritto nel decreto di esproprio. Il 4 maggio 1993 avveniva la consegna provvisoria di un secondo tratto all'ANAS. Il 14 aprile 1998 avveniva consegna provvisoria dell'ultimo tratto all'ANAS. La sentenza di appello è del 5 luglio 2011, passa in giudicato l'anno successivo, ottobre 2002. Dopo i numerosi quantovani solleciti, il Tar dell'Abruzzo, con una sentenza di ottemperanza, in data 10 gennaio 2007, investiva il Presidente della Giunta regionale, protempore dell'onere, di occuparsi del pagamento degli espropri relativi alla sentenza di cui sopra, e nomina così un commissario ad acta, un legale dell'Avvocatura regionale. Con impegno davvero, il commissario ad acta ha tentato in tutti i modi di arrivare all'ottemperanza, ma è riuscito a ottenere soltanto il pagamento da parte del Consorzio degli oneri di registrazione della sentenza per la modica cifre di 337.897 euro. Purtroppo, nell'ottobre 2009, con una dettagliata relazione, il commissario ad acta sancito l'impossibilità di ottenere il pagamento e, dopo aver puntualmente evidenziato i motivi del dissesto economico-finanziario dell'Ende, rimetteva il mandato nelle mani del Presidente protempore della Regione Abruzzo. Per tutta risposta, la Regione emanava la legge regionale 23 del 2011 di riordino delle funzioni in materia di aree produttive. All'articolo 19 si prevede che, considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara-Chieti. Considerata che questa è la sintesi di una vicenda durata ben 45 anni, come dicevamo prima, che ha indubbiamente leso gli interessi dei cittadini proprietari delle aree in questione. Interpelliamo il Presidente della Giunta regionale con questa interpellanza per sapere quali iniziativa abbia assunto o intenderà assumere per risolvere definitivamente il problema suo esposto. Se intenderà indennezzare direttamente o indirettamente i cittadini proprietari delle predette aree espropriate in quali termini. Io ho già avuto modo di parlare con l'assessore Lolli. Io personalmente non sono d'accordo con quella proposta di cedere tutto all'ANAS e poi dire, vabbè, ci scrogliamo di questa responsabilità se la vedesse l'ANAS con i cittadini. No, assessore. Noi siamo la Regione, noi possiamo pianificare, programmare e disporre in questo caso, non lasciamo soli questi cittadini. Facciamo in modo che siamo noi ad assumerci tutte le responsabilità in questo caso voi come amministrazione attiva di Governo prima che avvenga il passaggio all'ANAS perché poi non possiamo controllare più niente. Quindi non possiamo dare nessuna certezza in sé. Oggi i cittadini hanno bisogno di certezze dalla Regione, non dall'ANAS. Questa è la nostra posizione. Grazie. Assessore Lolli. Grazie. Risponderò nel merito, ma diciamo va considerata che questa questione è inserita dentro una questione un po' più ampia che è uno dei buboni, dei tanti buboni che nel corso degli anni in questa Regione si sono accumulati e sono stati lasciati marcire. Parlo del Consorzio Chieti-Pescara che attualmente è arrivato ad accumulare un debito di quasi poco meno di 33 milioni di euro 19 dei quali nei confronti di cittadini espropriati. La metà di questi 19 milioni, circa, poco meno, è relativa ai cittadini espropriati per il percorso dell'asse attrezzato, altri sono relativi a cittadini espropriati per le aree di pertinenza del nucleo. Come dice il Consorzio Chieti-Pettinari, parliamo di esproprio una parte dei quali sono partiti e cittadini quindi stanno aspettando dall'inizio degli anni 70. Poi ci sono 11 milioni di euro di debiti nei confronti di fornitori, tra i quali spiccano in un modo considerabili parcelle di avvocati che sono lievitati a cifre veramente paradossali e infine ci sono 2 milioni di euro nei confronti del fisco, dell'erario degli enti previdenziali. Aggiungo che la situazione è resa ancora più complessa dal fatto che questa struttura, cioè questo Consorzio, di fatto non ha introiti, giacché i consorzi industriali non si reggono certo sugli introiti, sulla gabbella, così la chiamo, che fanno pagare agli imprenditori spesso senza dare neanche servizi vagamente adeguati, ma si reggono i consorzi industriali sulla base della gestione della depurazione. Nel caso specifico, le due strutture depurative che riguardano questo Consorzio, cioè quella di Salvaiezzi e quella di Ortona, sono gestite da altri enti. Quindi si tratta di una struttura che continua ad accumulare i debiti a quelli che ha. La vicenda è stata lasciata così un po' trascinare, quasi che scopando la polvere sotto al tappeto la cosa si potesse in qualche modo risolvere da sola. Naturalmente esagero, sono stati vari commissari, alcuni dei quali si sono anche cimentati nel tentativo di ridurre questo ammontare, ma siamo arrivati oggi a una situazione pesantissima. La passata amministrazione è intervenuta indicando una gestione liquidatoria, incaricando dei commissari e in più, come sapete, ha predisposto un provvedimento, anzi due provvedimenti, il secondo poi è stato però osservato, di riunificazione dei diversi consorzi industriali abruzzesi nell'Arap, escludendo, saggiamente dico io, in quel caso il consorzio Chiedipescara, che se no con la sua massa debitoria avrebbe affondato definitivamente tutto il resto della vicenda. Che cosa abbiamo fatto e intendiamo fare per affrontare questa situazione, non essendo, diciamo noi, nell'idea di continuare a dilazionare il problema? Primo, sono in grado di fornire un'ulteriore informazione rispetto a quella che ci siamo scambiati in una chiacchierata recente. La trattativa con l'ANAS è una trattativa che ha avviato direttamente il Presidente della Regione e che si è concretizzata anche attraverso una lettera formale indirizzata alla Regione da parte del Capo Compartimento Centrale dell'ANAS, della Direzione Centrale dell'ANAS. La trattativa con l'ANAS è la seguente, si concluderà entro giugno. Noi cediamo definitivamente all'ANAS l'asse attrezzato. L'ANAS ci retribuisce, vi posso indicare, il Presidente mi autorizza a fare anche la cifra sulla base della quale è avvenuta oggi questa trattativa, ed è esattamente di 9.286.000 euro. È una cifra congrua a risolvere il problema degli espropriati dell'asse attrezzato. Secondo me è ragionevole quello che dice il Consiglio di Pettinaglia, cioè non si deve fare prima di cedo e poi te la vedi tu. Noi dobbiamo negoziare tutta questa partita e portare il pacchetto ovviamente completo, compresa l'aspetto non banale del fatto che questi soldi debbano essere finalizzati e indirizzati alla specifica rimborso di quegli espropriati e non finire nel calderone generale. Quindi è una procedura che è ancora in corso e si deve concludere entro il mese di giugno. Se tutto va come deve andare, come il lavoro è stato impostato, noi a fine del mese di giugno avremo a disposizione, ripeto, 9.200.000 euro, che è una cifra congrua. Naturalmente non ci possiamo fermare qua, perché avendo, speriamo, come ci auguriamo e come stiamo lavorando, risolto il problema degli espropriati dell'asse, rimane il problema del diritto di tutti gli altri cittadini e dei fornitori, d'altra parte. Relativamente alla parte ulteriore di debito, stiamo lavorando perché l'attuale commissario dell'Arap, nell'ambito del suo progetto industriale, che nei prossimi settimane verrà a illustrare e a riferire, o in Consiglio o in Commissione, adesso lo stabiliremo, e che sta andando avanti, secondo me, in un modo molto serio e molto spedito e anche con una visibilità, con una prospettiva finanziaria positiva, dentro a questo progetto, come d'altra parte avevamo indicato nel documento che questo Consiglio indicò, che correrò per quanto riguarda quella nomina, di contrarre un mutuo, entro il quale, un mutuo naturalmente avendo prima raccolto i beni del Consorzio di Chiedi Pescara, un mutuo che naturalmente non può essere della dimensione dell'intero debito, ma un mutuo che deve prevedere la possibilità di andare a fare una transazione con gli ulteriori creditori. Quindi, se la cosa è predisposta in modo tale che ci sia una diversa impostazione, come ho cercato di spiegare. Da ultimo, naturalmente, c'è il terzo aspetto, cioè finalmente, colmando ritardo di anni, il Collegio dei liquidatori ci ha fornito l'esatta illustrazione dei beni pubblici di proprietà di quel Consorzio, strade, fogne, illuminazione, eccetera, eccetera, e di tutte le particelle catastali. La mia personale opinione è che quel Consorzio industriale, come altri Consorzi industriali della nostra regione, ma quello vorrei dire più di altri, è un Consorzio industriale troppo esteso, riguarda una serie di aree che è difficile oggi continuare a pensare che possono avere una vocazione industriale. Sono aree che sono state ormai ricomprese in nucleo urbani che nel frattempo si sono espansi, penso a Chiedi Scalo, penso allo stesso Sabuceto. Io credo che noi in generale, e in quel caso in modo particolare, abbiamo consumato troppo territorio, è pieno quel nucleo industriale come altri, di capannoni, una gran parte dei quali sono capannoni abbandonati, noi dovremmo ridurre le aree, riconsegnare ai comuni una serie di aree che stabiliremo nella nostra pianificazione, non hanno più, e su quelle aree che rimangono concentrare a investimenti per quanto riguarda la sistemazione dei beni primari. Strade, luce e fogne non sono adeguati nel nucleo industriale di Chiedi Pescara all'alto. E poi fare gli interventi nuovi, innovativi, banda larga, predisposizione dell'isola ecologica e predisposizione dei risparmi energetici necessari. Questo è un po' il disegno, questo disegno passa però da un presupposto, lo voglio dire qui in fase conclusiva, che noi teniamo ferma la linea che questo Consiglio regionale ha votato, anche correggendo orientamenti legittimissimi che molti qui avevano diversamente in passato, e cioè che la gestione della depurazione debba essere una gestione attribuita all'Arap, perché altrimenti noi non avremo la possibilità di gestire il processo di investimenti che sono necessari per rendere queste aree adeguate e d'attressa. Consigliere Pettinari vuole fare la replica? Presidente. Ah, non l'ho visto. Presidente D'Alfonso vuole intervenire? Presidente. La replica è finale addirittura, e quindi mi verrebbe negato il fatto di riparlare dopo, mi pare che il regolamento sia acclarato su questo. Purtroppo ci vuole quella dicitura che soltanto il regolamento dispone e che il Presidente può parlare in ogni circostanza, purtroppo. Allora, io voglio dire a lei, ma naturalmente strumentalizzo l'interlocuzione con lei, per affermare un fatto di verità, oltre la puntuale ricostruzione che ha fatto l'onorevole Lolli. questa attività che abbiamo fatto noi adesso con Anas andava fatto 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, negli anni passati, soprattutto quando l'Italia aveva sette seni come finanza pubblica. Farlo adesso e raggiungere adesso questo risultato vale 100 volte di più. Ma la cosa invece di merito, perché io non vorrei rendere questo Consiglio regionale un aran delle cose del passato. L'aran delle cose del passato la vorrei lasciare alla bad company. Sapendo che dobbiamo ragionare come new company, qual è il fatto nuovo di cui ci dovremmo fare carico? in una chiave alla Giacomo Vaciago. Noi dobbiamo dare, avvocato di Nicola, avvocato di Nicola mi ricorda per intero il diritto lei, noi dovremmo farci carico di dare un nuovo regime del suolo alle terre dei consorsi industriali. E adesso vediamo che significa un nuovo regime del suolo. Onorevole Lolli, questo lei lo avrebbe potuto fare da stimato parlamentare della Repubblica. Purtroppo lei è stato costretto ad occuparsi di sport e di cultura per la parte che lo sport porta con sé e anche di tutte le emergenze aquilane. Noi dobbiamo dare un nuovo regime del suolo alle terre dei consorsi industriali perché? Perché non sono ripetibili all'infinito gli spazi per l'attrattiva industriale. Ci fu un solo italiano, direttore del DPS, Fabrizio Barca, che raccolse il mio grido di aiuto. Purtroppo il presidente dei consorsi industriali d'Italia, Tal Coviello, fu contro perché tutelava gli interessi dei consorsi industriali. Io posi allora da sindaco di Pescare il tema del regime del suolo, cioè non si può dare la proprietà, ma va dato l'uso limitato e coincidente con la vita di quell'investimento. una cosa di questo tipo, un giornalista professionalmente contrattualizzato la dovrebbe scrivere bene, chiaramente. Purtroppo non accade per una serie di ragioni. Un collega consigliere regionale la dovrebbe rendere oggetto di una macerazione intellettuale, e cioè come organizzare un emendamento strada facendo che irrobustisca, che cosa? Intanto il disciplinare tipico dei consorsi, e poi muoverci all'indirizzo di Roma finché arrivi una norma nazionale che ci farebbe salvi da tutti i contenziosi in essere. E dai contenziosi che si potrebbero generare. Noi dovremmo dare alla San Carlo Patatine il regime del suolo giusto per fare l'investimento, ma non è che se finisce San Carlo Patatine, suo genero lo trasforma in edilizia che poi si vende col 23% di utili. Io immagino che così sia il ruolo dei parlamentari regionali, non l'inseguimento di cui parleremo in altra sede. Noi dobbiamo arrivare a fare una norma di questa fatta e battagliare. Io personalmente me ne faccio carico nella recuperata conferenza Stato-Regioni, nella sempre valida conferenza unificata. Però lo dovremmo anche stressare, avvocato di Nicola, anche come norma da calare nel disciplinare tipo. Vi posso dire come ho visto io il consorzio industriale Chieti-Pescara negli ultimi anni? Avete mai visto, forse Camillo D'Alessandro sì, i vigneti tendenzialmente esauriti? Cominciano a piegarsi? Allora uno che fa? Se a ottobre cominciano a comparire, uno si prende quello che c'è, sapendo che è destinata alla morte. L'atteggiamento è stato prendiamo quello che c'è. Io penso che senza il consorzio industriale, ancorché fluito, andato dentro a questo nuovo soggetto, vitalmente protagonista, in questa occasione parlando a Lolli, ma soprattutto a voi tutti, noi dobbiamo ripensare dentro questo quadro la vita delle agenzie regionali. Questa storia che le agenzie regionali sono cartaceamente enti di appalto di lavori degli uffici della regione è il più grande inganno sicilianizzante la regione Abruzzo. Ogni tanto esce una baracca esterna che si fa carico di un pezzo di lavorazione amministrativa. È un inganno, è un inganno che non ha futuro. Oggi l'ambasciatore americano mi ha donato questo, adesso lo farò stimare dall'ufficio anticorruzione per vedere se supera le 150 euro della direttiva cassese. Sono dei gemelli, con Luciano Monticelli stimeremo se supera la direttiva cassese. Siamo al limite. Però io potrei anche terziarizzare questa verifica, non ho nessuna difficoltà. Con l'ambasciatore era presente un validissimo rappresentante del Parlamento regionale, abbiamo concordato anche l'onorevole Lolli come generare attrazione di investimenti. Lui ci ha detto di non giocare a stale olio, cioè di non fare attrazione con quelli o che non hanno possibilità di insediarsi o con quelli che già si sono insediati, ma di andare fuori. E chi ci mandiamo fuori? Il CRAM? Ci mandiamo fuori le agenzie. Un'agenzia abilitata che poi possa impegnare il suolo, possa impegnare le procedure, possa impegnare accelerazioni, possa impegnare la Madia, che è una rivoluzione. La Madia è una rivoluzione. La Madia per la vita delle imprese azzera le procedure, le azzera, non quello che dice Longhi, le azzera le procedure. Le azzera e dobbiamo strutturare, le azzera l'ultimo elemento della Madia sulla vita delle imprese e delle infrastrutture, azzera le procedure, quelle che sono individuate come strategiche entro il 30 di gennaio di ogni esercizio, dalla coppia Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione. Uno potrà essere contrario, sono convinto che qui ci sono dei contrari. Ma noi dobbiamo conformare, formattare la Regione a questa rivoluzione della pubblica amministrazione. Sapete quanto tempo ha la sovraindendenza per dare il suo parere? 15 giorni e non è che se fa la richiesta di integrazione si ferma. Continua a girare l'orologio. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sapete quanti giorni ha per concludere il suo parere? 40 giorni. 40 giorni. E se chiede integrazione documentale, l'orologio gira comunque. È una rivoluzione. Bene, grazie Presidente. Consigliere Pettinari per la sua replica. Sì, ma vedi, io non posso che essere soddisfatto. Perché? Perché tante volte è meglio non farle le cose che annunciarle e creare false aspettative. Oggi la risposta qual è stata? La certezza qual è stata per i cittadini? Avete divagato, avete parlato di tutto, come sempre, però dal cuore del problema non ci siamo arrivati. Quindi cosa le dico? Voi avete fatto un comunicato stampa, è uscito sulla stampa, quindi si è creata una falsa aspettativa. A mio avviso è falsa. Poi stupitemi e ve ne darò atto. Voi avete detto che pagherete quei cittadini. Punto. Basta. Questo vedono i cittadini. Scito sul centro, sul messaggero, credo anche, ampio risalto. Quindi al di là di tutte le problematiche, i cittadini non interessano le problematiche. Voi vi siete spesi. Avete dato la parola? La regione, il governo attivo di questa regione ha dato la parola. Adesso dovete ottemperare. Cioè, trovateli anche voi quei 9 milioni di euro. Incasserete i 9 milioni di euro, non si possono destinare e vincolare. Ebbene ce li mette la regione Abruzzo, perché ha dato dimostrazione che quando vuole la regione Abruzzo trova 6, 7, 8, 9 milioni di euro in 5 minuti. Quindi la soluzione la dovete trovare. Però lei, ancora una volta, Presidente, oggi non ha dato nessuna certezza. Allora io che cosa le dico? Prima di fare un comunicato stampa, di fare una conferenza, di largiare qualcosa sui giornali, ci rifletta 20 volte, 200 volte, 2000 volte, perché è meglio non farle che creare false aspettative. Adesso i cittadini si aspettano da noi, perché anche noi ci siamo qui. Si aspettano la soluzione massimo entro un mese. Ma questa soluzione, da quello che mi avete detto, non arriverà né tra 3 mesi, né tra 4 mesi, né tra 6, né tra un anno e né tra un anno e mezzo. I cittadini addirittura hanno minacciato di diffidare la regione Abruzzo e riprendersi le aree. Volevamo arrivare a questo. Tutti ne abbiamo beneficiato. La collettività ne beneficia ogni giorno, servendosi di quel tratto stradale. Lei si è speso, adesso dovete fare i fatti, perché le parole ne avete fatto tante. Anche oggi avete fatto l'ennesima, non tanto lei, perché la reputo molto più pragmatico e concreto, ma da quell'altra parte solo filosofia politica, come ho sempre sentito. Quindi non posso ritenermi soddisfatto. Vicepresidente Lolli, lei mi aveva assicurato una risposta scritta la volta scorsa. Se mantiene la promessa gliele renderò atto, sicuramente.